Allora, terzo giorno, buongiorno, 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 ma vedete dove siamo, l'operatore? L'operatore, non fa niente, bravi, sono gli stessi, mi ricordo che sono tutti stessi, il gruppo che ce l'ha chiesto è, il gruppo che ce l'ha chiesto è, la mia richiesta. Quanto? Quanto? Quanto. Quanto. Terzo giorno, cos'è da dire Alessandro? Il falco mi sembra ottimo, il teatro è veramente molto bello, sono i musicisti che insomma lasciano un po' di ritornare. Chi più e meno, è sempre così. E quattro. Quattro. Lasciate lì, secondo me sono i pedalini. Fammi le batterie in futuro. L'unica cosa che serve, portata da casa, scatorciola. E' il basso. Sono sicuro. Ah, tocca il basso! Che curio! E' il basso! E' il basso! Prova il basso! E' il basso, adesso provo al basso. C'è curio! Io ci ho provato! Certo! Ha cambiato il set dell'applicatore. Siamo su un G79900. E' il basso! Tant'altro fa mi sentirei pulito e distorto, la differenza. Vai pulito. Sono insieme a loro. Guarda che ti parlo. Guarda che ti parlo. Guarda che ti parlo. Grazie a tutti. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prova la voce, check, sound check. Si, A, A. Prova. Fabio. Ehi, vieni più vicino, non ti vedo laggiù. No, sì. Allora, fammi sotto un falso. La voce, la chitaria di Pupo, sì. Oddio. Che è? L'altra, quello, lo faccio da te lo fai con l'altra? Puoi fare? Niente. Ci fai solo questo? Aspetta, ti faccio vedere la scaletta. Cioè, a chi la faccio io la scaletta? Non si può girare, eh? Fammi sentire studio. Non si vedete niente. Non si vedete niente. Ora, fammi piano. E poi una cosa. Visto che abbiamo bisogno di leggere le mollette, ho trovato questa cosa, saranno forti, sono forti. Se c'ha le mollette e il leggio, mollette allucina tutto insieme. Gravolo, questa è fatta. È una bellezza da loro. Monti per la serata. Allora. Abbiamo qua anche la ragazza. È quella che va in là, non quelle che vengono in qua. Un giorno ci sarai te. C'è anche Leonardo Franceschi, eh? L'uno che ha presentato una televisione famosa in Italia. Fa un scoglione tour. Leonardo Franceschi. E' un po'. E' un po' che si manda un'email. Con Renato Zero. Con Renato Zero. Con Renato Zero e Leonardo Franceschi. Anche questo è Renato Zero, sì. No, è quello prima dell'operazione. Scusi che è Renato Zero. No, no. Anche quello è Franceschi. No, quello è Franceschi. No, adesso mi... Ciao. Allora, il fascino è... Lo fascino... Come sta al fascino? Il fascino è un po' di meno. Un po' di meno. Quella è ben dittima La Patricia c'è anche, ah no questa non è una foto Bella Ma poi ha fatto il problema Mamma Per la mia canzone C'è la School of Rock in televisione Mario Musica